benvenuti ad app per prof un'app in cinque minuti appena ovvero una vetrina non un tutorial che introduce sinteticamente strumenti tic per i docenti 3.0 ben trovati a tutti timeline è una semplicissima web app per la creazione di diversi tipi di linee del tempo pratica essenziale immediata e adatta per l'attività di ripasso di sintesi delle informazioni non richiede registrazione può essere usata in modo completamente gratuito consente gli studenti di rappresentare graficamente eventi o processi visualizzando i vari elementi in sequenza e lungo una riga aggiunta di un'immagine per ogni evento rende la timeline più attraente dal punto di vista visivo il drag and drop ovvero il trascinamento degli elementi all'interno dell'applicazione consente di aggiungere modificare e ordinare gli elementi secondo la necessità la funzione salvataggio consente infine agli studenti di tornare al lavoro e di effettuare revisioni o possono condividere il loro lavoro finale via email o stampandola in due differenti formati di visualizzazione andiamo senz'altro ad introdurre l'applicativo dalla schermata iniziale di timeline possiamo procedere scegliendo quale linea del tempo vogliamo realizzare ne abbiamo a disposizione 3 una basata su gli orari del giorno oppure gli eventi una di tipo esclusivamente storico con quindi delle date oppure semplicemente un ordine cronologico temporale come prima cosa mettiamo il nostro nome e procediamo dando un titolo ad esempio la cronologia dei merovingi selezioniamo start ed ecco come viene visualizzata l'interfaccia per la creazione di una linea temporale naturalmente possiamo aprire un progetto che abbiamo già salvato nel caso in cui avessimo già utilizzato timeline salvare il punto in cui siamo arrivati nella creazione seguire un piccolo tutorial delle informazioni oppure chiudere possiamo naturalmente cambiare quante volte vogliamo il titolo prima di salvarlo per poter aggiungere un evento su questa linea del tempo basta semplicemente selezionare una qualsiasi di queste tacche cliccare ed ecco che si apre un'interfaccia per la creazione di una etichetta come viene chiamato oppure di un evento quindi possiamo procedere compilandolo inseriamo prima di tutto una data come questa aggiungiamo una piccola descrizione una descrizione più completa a mano a mano che compiliamo ecco che la preview ci fa vedere come verrà la nostra etichetta possiamo anche aggiungere un'immagine ci viene proposta anche una seconda interfaccia per poter andare a modificare direttamente l'immagine rotandola oppure creando una copia o agendo con un zoom per poterla ingrandire una volta che l'abbiamo selezionata ecco che la nostra etichetta verrà visualizzata in questo modo dando l'ok con questo segno ecco che la nostra etichetta nel tempo viene visualizzata possiamo sempre scegliere dove posizionarla con un pratico meccanismo di drag and drop quando saremo soddisfatti del nostro lavoro procediamo con finish ci viene data la possibilità di salvarlo come bozza di salvarlo come progetto definitivo sul nostro computer oppure di inviarlo via mail e infine di stamparlo lo possiamo stamparlo sia in questo formato grafico oppure semplicemente con una lista ecco ad esempio come potrebbe venire una linea del tempo quasi definitiva con gli eventi ravvicinati che sono messi uno di fianco all'altro e quelli più lontani invece che si distanziano cliccando possiamo avere una serie di informazioni aggiuntive cioè aprendo praticamente la nostra etichetta e questo è tutto timeline non è una web app solo per la didattica della storia può essere infatti utile per pianificare un evento organizzarlo gestire la scansione dei propri compiti e così via usate per aiutare gli studenti a gestire il programma settimanale di studio o ancora chiedete loro di tenere traccia dei loro risultati scolastici infine dopo aver letto un libro provate insieme a dividere il testo in sequenze narrative temporali vi invito a usare timeline e vi auguro buon lavoro a presto